Doma animali selvatici cromati, allora avete più possibilità di completare l'incarico. La più semplice sarebbe cercatevi degli animali già cromati, saltateli in groppa e avete completato l'incarico. In tutto dovete domare due animali. Secondo metodo, giocate ad esempio in rissa squadre, procuratevi dei schizzi cromo, lanciateli contro degli animali non cromati, lanciando contro di loro lo schizzo cromo diventeranno cromati, basta che li saltate in groppa e avete completato l'incarico.